Le presento l'ispettore Fanduto Fruncillo Ah, e l'ispettore che cosa? Scusate Delinco Ebbene potete andare Io non sono mai Io non sono mai stato Io ho fondato anche un partito politico Mi faccio un vatico in Italia Mi faccio i chiacchi Addirittura E fatemi sentire quale sarebbe il vostro programma politico E fanno un assento Aiuto, qui c'è stato L'azione Italiani Io le tasse ve levo proprio Io mi levo lì sulla prima casa E se non ho fornito Ve levo proprio la prima casa Ma non c'è uno capato Sette, oh Nove milioni di posti di lavoro Ancora devo decidere E poi Città più sicure Campania e triffettini Mondinnevati e male pulita Allora, io stavo bene E poi Realizzerò il famoso ponte che ci condurrà in Sicilia Quello sullo stretto di Messina No No Genova Una tirata Buona Buona, io non devo sentire altro Pensione confermata Grazie, arrivederci E a voi altre letture presenti di Zala Alle vostre domande una sola è la risposta E che non fa il cedice? E che non fa il cedice? E che non fa il cedice? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti